Al grigiore della crisi e alla mancanza di fondi per l'edilizia scolastica c'è chi risponde con intraprendenza e spirito di iniziativa. E' quanto accaduto questa mattina nella scuola media Nicola Festa di Matera. Protagonisti, gli studenti del liceo artistico Carlo Levi, che armati di bombolette e spray, hanno risposto all'invito del dirigente scolastico dell'istituto comprensivo padre Giovanni Minozzi, Patrizia De Franco, realizzando colorati murales nel plesso scolastico di Via La Nera. La bellezza dell'opera d'arte ha preso il posto di brutte e scurrili scritte tracciate sui muri con atti vandalici. Abbiamo cercato la collaborazione del liceo artistico di Matera per portare un poco di colore nelle nostre classi, nei nostri corridoi che risentono un po' del peso degli anni, con una modalità artistica del tutto innovativa, che sta sempre più prendendo piede poi all'interno delle città, quella che viene definita comunemente ormai street art. Una street art che entra però nei locali della scuola e devo dire che questa scuola sicuramente ne aveva proprio bisogno. I ragazzi che sono all'opera sono i ragazzi della classe quarta A, del liceo artistico, e della terza B. Un'occasione, quella odierna, per ripensare gli spazi di studio, renderli più vivibili e accoglienti, al valore affettivo e di appartenenza ad un luogo che dovrebbe essere sempre riferimento sociale, e culturale di benessere per i ragazzi, si aggiunge il valore artistico dato dall'intervento di mani esperte, quali quelle degli studenti del liceo artistico. La creatività dei ragazzi da oggi fa brillare i corridoi della Nicola Festa, riempiendo la scuola di colore ed entusiasmo. Lavoro c'è, l'entusiasmo c'è, e proviamo insomma a portare davvero una ventata anche di novità nella scuola media e perché no, chissà, foriera anche di sviluppi futuri.